Musica Ragazzi oggi è iFlex che vi parla Ed oggi siamo tornati nel let's play di minecraft Siamo arrivati al trentasettesimo episodio E in questo episodio andiamo alla ricerca di enderpearl Perché così ci possiamo fare gli enderai per andare nel portale Cioè per andare nel land Quindi faccio vedere la fattoria che l'ho terminata off camera Qui abbiamo la stanza del grano Qui abbiamo le carote Mi pare che ve le ho fatte vedere No non me lo ricordo più E ne prendo anche un po' perché ho fame Cioè il mongoloide ha fame Lì ha sempre fame Quindi a posto 35 a voglia Quindi metti ste carote e mangia Morto di fame Ogni volta veramente raga muore sempre di fame Non so perché ha sempre fame Ecco qui dopo abbiamo tipo un corridoio Che ci porta a queste altre due stanze E qui abbiamo la stanza delle angurie Più piccola chiaramente E qui abbiamo la stanza delle patate Che non userò mai al mondo Perché ci vuole il coso Si devono mettere nella fornace Si devono cuocere Cioè il macello Il mio cibo preferito sono le carote Non ho fatto la stanza delle zucche Perché alla fine non è che ti date il cibo La zucca Guardate che bella questa stanza Vabbè raga Ora andiamo a cercare gli enderman Vediamo se sta facendo buio No Dove sono? Si ancora Vabbè intanto io faccio un taglio Sistemo l'inventario Appena fa no Cioè esco E vi faccio vedere La cattura degli enderman Bellissimi Raga vi chiedo una cosa Veramente importantissima Mi raccomando Iscrivetemi tutti nei commenti Ehm Ora vi dico Cosa dovete scrivere Allora raga Questo sotterraneo E' simile A un sotterraneo Di un altro youtuber Quindi Io sto cercando di farlo cambiare Però non mi viene proprio niente in mente Su come farlo cambiare Chiaramente io sono uno Quindi le idee di una persona Voi siete 1540 Le idee che avete sono di 1540 persone Quindi Chiaramente avete molto e più idee di me Quindi raga mi raccomando Scrivetemi sotto Nei commenti Come posso far cambiare questo sotterraneo Come Ehm Decorarlo Di più Qui mi avete detto Di mettere tipo Un hopper Con una cassa Però Non lo faccio Perché poi dovrei mettere Tutto il tappeto di sopra Qui infatti Le vado anche il tappeto Perché così mi piace di più la stanza Ehm E niente raga Quindi ora Io ho il sistema ancora L'inventario Mi raccomando Già da ora Mettete in pausa il video Scrivetemi Sotto nei commenti Come posso decorare Quei sotterranei Il corridoio alla fine Devo decorare Quindi mi raccomando Raga Ehm Ci vediamo tra poco Quindi raga E' notte Quindi con questa bellissima Immagine Del cielo Ma porco Di tuo cugino Bastardo Muori Vai Mongolo Madonna Quindi raga Ora possiamo partire Per andare alla ricerca Di enderman Ehm Speriamo che Ci vada bene La La sfida Aspettate raga Io però Dovrei fare una cosa Quindi Mi metto nell'acqua Così se esplode qualche creeper Tanto piacere Quindi mi metto qua Così neanche affoga E facciamo una cosa Molto importante Quindi andiamo Il guido opzioni Impostazioni Grafica Ecco Aumento la gamma Perché così Voi vedete Più chiaro Perché se no Veramente non ci vedete niente Eccola Vedete Molto Molto Più chiaro E' bello Così sinceramente Mi piace un botto Quasi Quasi Lo lascio così Guardate E' bello No Veramente Una strega No Un'altra Che cosa Due streghe No Via Scappa Scappa Però le voglio uccidere Figlia di puttana Morta Mi ha dato una pozione Ha finito A finire Buttare Pozioni Purei tu Bravo Guarda che devo morire Ma mi ha dato una bottiglia Sarò io che sono stupido Mangiamo subito Perché deve recuperare i cuori Vabbè Eccolo un enderman Ora mi sciotta Perché sono stupido Che ho perso tutti i cuori Però vabbè Ciao Madonna no raga Mi sciottano Mi sciottano Ci sono troppi Cosi Muoricci Mettire Oh Creeper Aiuto Mi ha dato l'ender Per no Non me l'ha data Devo mangiare Madonna quanti mob Non ci può Quanti Creeper Devo andare in un posto tranquillo Mi aiuto Aia Quanto vi odio No dai Forza enderman Dove siete Cretino Quel tir che non mi ha dato niente Qui c'è la giungla E' antipatica Per andare Di notte E ora raga Anche il prossimo episodio Sarà un episodio Di avventura Il spoiler Solamente questo Forza enderman Non c'è nessuno Ci sono sti handicappati mentali Si tanto piacere Esplodi Saliamo Vediamo se facciamo qualcosa Ciao Levati Ma niente raga Non c'è niente Ma niente Non è possibile C'è tutto Ragni Zombie Vabbè Comunque Quando una cosa serve Non si troverà mai E' sempre così Raga E poi nel deserto Potremmo provare Ad andare C'è più tranquillo Ho sparato Una gran Cavolata Però va bene No Sono caduto Madonna Ma tu quanto Mangi Mi Guarda E' bello Con la gamba Messa È bellissimo Il mondo Di notte Guardate C'è qua E' bello E' bello Mi piace Un botto Li farò così Da questa volta Li ho viso In miniera E' bello Mi diverto Quindi Spero Vediate Nel video Non posso Mettere dolci In giro Perché Se no Spawna Niente Ehi Vedete Qua È una zona Molto più tranquilla Non c'è E' niente A parte Questi due Handicappati Che non mi servono Ti morisse Il cugino C'è anche Una palude Ma nella palude Ci sono Gli slime Che no Non ci servono E niente Raga Non c'è Un cavolo Di enderman Benissimo Magari Posso provare A farmarli Off camera Non lo so Che cavolo Però Non è possibile E' stranissimo Non ci sono Gli enderman Ma gli enderman Dove siete Ma solo Al cielo Ci sono Guardate Quanti ce n'è Tra l'altro Ciao No Enderman No No Ma è al mondo Una cosa Quando serve Mai Che sfortuna Però Niente Raga Non c'è Niente Possiamo provare Ad andare Dai villaggeri Vediamo Se scriviamo Qualcosa Tanto Non c'è Niente Quindi Speriamo Di qua Niente Manco Ammazzati Ma Non mettere Un cavolo Di enderman Andicappati Mamma mia Che fantasia Solo Arcieri Ci sono Ecco Questo è un motivo Perché vorrei Che aggiungessero Qualche nuovo Tipo di mob Sempre Per la stessa cosa Sempre E tra l'altro Di endermi Sono scomparsi Non esistono Più Sono Tutti Morti No Ma Non è Possibile Dai Non c'è 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 È finita Anche la notte Uccidiamo Esta strega Vediamo Se ci dà Qualche Pozione Cioè raga Abbiamo trovato Più streghe Che Che Cosi Non me l'ha Troppata Comunque Stavo dicendo Abbiamo trovato Più streghe Che Enderman Che Cavolo Però Non è Possibile Questo affronto Eh Vabbè Ah Comunque Li cercherò Off camera Perché L'obiettivo Dell'episodio Era Avere Un pa Cioè Prendere L'ender Per andare Nell'end Non ci sono Riuscito A fare Questo obiettivo In camera Quindi Lo farò Off camera Mi dispiace Ma Non è Colpa mia Se i cosi Non spawnano Madonna Però Quanto mangi Ma sei un Vidello Madonna Niente Non c'è Niente Eh Vabbè Si Gli enderman Restano Anche Di giorno Però Se non Li trovo La notte Non li Troverò Neanche Di giorno Niente Raga Non c'è Niente Che Cavolo Madonna Non c'è Niente Niente Da fare Quindi Spero Che questo video Vi sia piaciuto Come al solito Lasciate Un like Un commento Dove Mi dite Come Come migliorare I sotterrani Mi raccomando Ognuno Di voi Mi scrive Un commento Con le proprie idee Mi date Dei suggerimenti Molto Conti Importanti E Lasciate un commento Iscrivetevi al canale Da Iflex E tutto Bella Bella